Bene ragazzi bentornati su Real Napoli eFootball, cerchiamo di fare delle partite spettacolari per voi con solo giocatori presenti nella rosa reale del Napoli, in questa puntata andiamo a giocarci la seconda partita della divisione 4, la prima l'abbiamo persa 2-0 contro il Bayern di Monaco, un Bayern di Monaco zeppo di fenomeni e purtroppo non ci ha permesso di andareci a prendere i primi 3 punti, la versaria in realtà è molto forte, io non ho giocato benissimo quindi la sconfitta ci sta tutta e ci ha già leggermente complicato il percorso dato che non siamo riusciti a prenderci la prima vittoria, ci proveremo in questa seconda partita, contro chi? Lo scopriamo adesso, contro l'Inter, Inter-Napoli, andiamo a San Siro, luce a San Siro ragazzi, vediamo vediamo perché l'Inter ultimamente mi ha portato bene, non vorrei tirarmi la zappa si piedi da solo, ma l'Inter mi ha portato bene anche se questo è l'Inter stracolma di fenomeni, abbiamo la Simen ancora una volta a terra per la seconda partita di fila, però raga, tra l'altro il maestro nemmeno gioca, vi dico la verità, lo faccio iniziare titolare e poi casomai dopo si vede, perché nella partita scorsa col Ciolito non mi sono trovato benissimo, infatti io considerando anche il futuro per quanto riguarda il canale e il gioco, spero veramente così a me non se ne vada perché sarà un colpo al cuore non poterlo schierare più già, come ho detto nella precedente puntata mi sto godendo le ultime partite con Kim in difesa perché come sappiamo manca praticamente solo l'ufficialità per il suo passaggio al Bayern di Monaco, cosa che ci fa veramente veramente male ragazzi, ma non possiamo farci nulla, il giocatore ha deciso così e bisogna solo accettarlo, detto ciò abbiamo Inter Napoli nella seconda partita della divisione 4 che comincia già ad essere fondamentale perché la prima l'abbiamo persa in maniera non proprio simpatica, si parte, parte il batte l'Inter, attenzione premiamo a pressare, niente da fare Giannino di Lorenzo a chiudere, non riesce a chiudere, Kim si, ancora incredibile non ci credo, prendiamo gol dopo due minuti, solita difesa terribile, sta capitando un po' troppo spesso ragazzi, sta cosa non mi piace, fallo su Giannino, fallo su Giannino, un altro inizio shock, un altro inizio shock, Lobotka, provano ad andare da Anghissa, palla per Zielinski che provano ad andare di esterno, palla spaventosa verso Kvaraschela che arriva al cross, messa palla fuori dal portiere, Lobotka, palla per arriva a Anghissa, fermato senza fallo dice l'arbitro, ma sempre strane, Olivera, Ziediski, Lobotka, palla per Rosimen che allarga per Kviccia, Kvaraschela, Kvaraschela si ferma Kvara, poi l'appoggia a Olivera che prova ad andare a crossare, non ci riesce, recupera palla Olivera, attenzione, dentro per Kvaraschela, vede Lobotka che si gira, ho fermato Lobotka qui, dal difensore, attenzione Messi, prova a far girare palla all'Inter, ovviamente mi stanno facendo già girare le palle, Di Lorenzo deve andare su Aghavi, Kim, provano ad andare a chiudere, Kim, fantastico Kim che cede su Aghavi, fantastico Kim, poi palla per Di Lorenzo che prova a scendere, porta palla Di Lorenzo, dentro per Anghissà, che vede Osimen, 1-2 con Anghissà che entra in area, Anghissà, crossi in mezzo, c'è Osimen che incorna, palo incredibile, poi gol, azione spaventosa, azione spaventosa ragazzi, spaventosa, ho fatto un'azione spaventosa, e Osimen dopo il palo di testa appoggia la palla in rete, 1-1 ragazzi, 1-1, attenzione, Rachmani, erroraccio di Rachmani qui, e Meret qui ci grazia, ci fa un miracolo, e ancora Kim qua, abbiamo difeso male, erroraccio di Rachmani, ma Meret ci mette il piede e ci fa restare in partita, attenzione a Beckenbauer, prova ad andare corto, c'è Quara, Schelia addirittura a difendere, se ne va Quara, prova a ripartire Quara, Schelia, se ne va Quara, Schelia, prova ad andare in profondità verso Simen, palla troppo corta, peccato, peccato, attenzione andiamo in chiusura, Rachmani questa volta fa una gran chiusura e sbaglia l'ennesima impostazione oggi, non mi sta proprio piacendo questa situazione di Rachmani stasera, attenzione a Livera che chiude su PMP, fantastico Livera, poi prova ad andare direttamente da Quara, Schelia, che appoggia per Ziedischi la reda Quara, Schelia, che la reda Ziedischi, 1-2 pazzesco, ancora Zielo, verso Quara, scende Quara, Schelia, va ad appoggiarsi da Osimen, che vede Anghissa, che l'appoggia fuori per Quara, dentro per Lobo, ha fermato al difensore, siamo arrivati un po' lunghi qui, Lozano, ancora Lobotka, Anghissa, dentro per Quara, Schelia, che dribbla Quara, cross in mezzo, Simen, era arrivato, McManyan, para, attenzione di Lorenzo, bel break a centrocampo, il Ciuquilo Zanno, dentro per Osimen, che appoggia per Ziedischi, che la dà ad Anghissa, chiuso dalla difesa, stiamo, pare, giocando bene, attenzione, prova ad andare l'Inter in contropiede, Lobotka, grandissima azione di recupero, Simen, appoggia per Lozano, che prova a ridarla ad Osimen, che arriva al tiro, la parata di Mignan, attenzione, recuperiamo palla con Lozano, Anghissa, Lobotka, dentro per Zienischi, si girò Simen, fermato col fallo, attenzione, fallo per il Napoli, mi nientico, sempre ricambio il tiratore, vabbè, avremo il maestro, ah, non c'è l'Ivera, quindi mi fa tirare, Cavara, Schelia, che interessa, Cavara, 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 Schelia, cazzo, voglio era in porta, voglio era in porta, era in porta questa, peccato, veramente, era in porta, vabbè, 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 calcio d'angolo, Zienischi, prova ad andare da Vittorio Simen, che prova ad andare a spizzare, niente da fare, Lobotka si dimentica il pallone, ma le recupera adesso, Lobotka, la parata di Mignan, arriva di Lorenzo, forse è stato un po' frettoloso, perché avevo paura che avreste subito, attenzione, recupero di Lobot, Kim, prova a restare su Benzema, Barella, Anghissano, Meret, uscita, perentoria, e blocca, e rilancia, a Osimen, prova ad appoggiarla, non ci riesce, Osimen, Di Lorenzo, attenzione, Di Lorenzo, Anghissà, fa correre il ciuchi, Lozano, se ne va Lozano, Lozano, cross di Lozano, non arriva nessuno, Osimen, palla per Olivera, rischia di perdere Olivera lì, punto, complicatissimo, Zienischi, Lobotka, Anghissà, dentro per Lozano che arriva, non al tiro però, peccato, peccato, raccomani, anticipa, poi Olivera, palla per il ciuchi Lozano, Di Lorenzo, la ridà Lozano, che prova a dar l'Anghissà, la riappoggia Lozano, che crossa in mezzo, c'è Osimen, che spizza, palla fuori, palla fuori, ma stiamo pressando costantemente, l'Inter a San Siro qui, Kim, prova a sfondare, niente da fare, prende palla, Giannino Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, proviamo a tenere poco palla, Osimen, Zienischi allarga per Kvaraschelia, Kvaraschelia, il cross in mezzo, c'è Zienischi, Pazzeschi, pazzesco gol di testa, di Piotr Zienischi, su assist di Kvaraschelia, 2 a 1, passiamo alla fine del primo tempo, attenzione Giannino, Giannino, fallo tu Giannino, che rilancia a lungo per far fine il primo tempo, Osimen, non finisce, finisce adesso, bene così, bene ragazzi, abbiamo ripreso una partita che era iniziata molto male, ma alla fine l'abbiamo dominata nel primo tempo, con 8 tiri in porta, di cui 2, siamo riusciti a metterli dentro, Osimen ripartiamo al secondo tempo, Lobotka, ma Olivera, Rackamani, provano ad andare da Anghissà, non so perché si è drogato Rackamani, attenzione a brutta palla, Meret, miracolo di Meret, miracolo di Meret, porca troia, Olivera, Zienischi, stanno provando ad attaccare, attaccare e prestare forte, Lobotka non riesce a recuperare la palla, attenzione Lobo, 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 peccato Olivera, niente da fare, Meret, bravo Meret, ci fermiamo, ci calmiamo un attimo, e Meret decide poi di andare da Giannino Di Lorenzo, che di testa l'appoggia a Ciuchilo Zano, che aspetta la sovrapposizione del capitano, che prova ad andare in profondità il capitano, che crossa e guadagna calcio d'angolo, gran bel calcio d'angolo, gran bel calcio d'angolo, attenzione, menù di pausa per gli avversari, invece no, lo fatto subito, bene, Zienischi prova ad andare da Osimena per il solito schema, attenzione a Vittor Osimena, che non riesce a spizzare, arriva Di Lorenzo, Lobotka dentro per Zienischi, forse era in fuorigioco, attenzione Rackamani, favoloso, Zienischi dentro per il Ciuchilo Zano, che prova a crossare, c'è Osimena, Mignon, Mignon, che prova a rilanciare subito, c'è Kim su Benzema, riesce a contrastarlo un po', ma l'Inter resta in possesso di Riest, in possesso di palla, Pempe è fermato da Olivera, favoloso, e poi Osimena di prima verso il Ciuchilo Zano, che la mette giù il Ciuchy, e il Ciuchy, il cross del Ciuchy su Mignon, che in realtà ha fatto un cacazzo combinato, si sta capendo un cazzo, alla fine il Ciuchy mette in mezzo, ma l'arbitro chiama il fallo, ah no, fuori gioco, offside, offside, e c'è una Beckenbauer, che prova a rimpostare per l'Inter, la gioca corta verso Badia Schvili, Ciuchilo Zano, proviamo a pressare, loro riescono a far girare la palla, Olivera deve andare a chiudere su Pempe, che è largo, attenzione Pempe, Rackamani si gira benissimo verso Pempe, e poi Osimena prova a far correre Kvarraschelia, che dribbla verso l'interno Kvarraschelia, ha fermato poi dal difensore, ma Kvarraschelia di forza, stava rischiando di andarsi a prendere la palla, attenzione Lozano, Kvarraschelia dentro per Osimena, attenzione Osimena, fermato da Pavard, lo botta, attenzione lo botta, fermato da Sergio Busquets, prova a ripartire l'Inter, attenzione Anguissa, prova a chiudere su Lampard, chiude Di Lorenzo, chiude di Lorenzo, secondo me serve un po' di freschezza, servirebbe un po' di freschezza, vediamo un po', servirebbe un po' di freschezza, anche Osimena, insomma, è molto sulle gambe, facciamo giocare un po' al sciolito, ci sta, ci sta, è un po' a centrocampo, c'è il massimo, non lo so eh, non lo so, tra le sole il sciolito al posto di Osimena, vediamo un po' se questa scelta può pagare, può pagare il sciolito, vediamo se resta un fire, Osimena, anche sa, fuori gioco dell'Inter, forse non c'erano le condizioni del vantaggio, Rachmani, Rachmani, rilancia a lungo, verso il sciolito, che però prende posizione, non riesce a prendere il pallone, però, lo botca, sporca la, la palla è poi, Olivera, attenzione, a Ziliski, verso il Krecia, Cavaraschelia, dribbling di Cavaraschelia, dentro però si è, però si mette il sciolito, niente da fare, Rachmani, provano a restare sommessi, attenzione, Di Lorenzo, santissimo, Di Lorenzo ragazzi, Lozano, prova ad andare, dal sciolito, niente da fare, Rachmani, fantastico, poi anche sa, Lozano, provano ad andare a Di Lorenzo, niente da fare, che palle, ma che cazzo fa, non capisco, attenzione, Ziliski, Angissà, perde palla, brutta palla persa, Angissà, Benzema, attenzione, guarda quest'altro lato, verso Li Sarasù, entra l'Inter in aria, lo botca, calcio d'angolo per l'Inter, bella chiusura di lobo, bella chiusura di lobo, attenzione, perché guarda la bagnerina, palla corta, brutta, brutta, mamma mia, Meret, 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 fermo, 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 guarda di là da Kvaros, che è la chi, forse può avere un po' di calma, per gestire la palla, ebbene sì, e la dà proprio a Ziliski, che allarga verso Olivera, attenzione, Olivera la mette dentro, verso il sciolito, però ci mette troppo, per girarsi, attenzione l'Inter, attenzione l'Inter, Kim, Olivera, mamma mia, Olivera lo botca, sbagliamo un po' di impostazioni qui, e poi di Lorenzo, grandissimo intervento, provare ad andarsene di Lorenzo, allarga verso il scioglio, Lozano, se ne va Lozano, 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 provare ad entrare Lozano, Lozano, fermato, da Beckenbauer ragazzi, è una bestia gli Beckenbauer, è una bestia, wow, ha fatto uno due con chissà, praticamente, ha fatto, e poi Rachmani, fantastico, Anghissà, che forse è un po' stanco, Lozano, la prova a lasciare per Di Lorenzo, grandissima palla del Ciuchi, ma Di Lorenzo, se la porta fuori, attenzione, l'Inter, prova a ripartire, ma l'Olivera, gran break di Olivera qui, poi, Karascheli, ha provato a dribblare, niente da fare, non stiamo riuscendo, ad essere pericolosi, e non va bene, grandissimo Kim, attenzione, Lobotka, dentro, per Olciolito, Simeone, la palla arriva a Zirischi, che la ridà, Alciolito, fermato poi, attenzione, Anghissà, recupera la palla, Anghissà, fantastico Anghissà, palla per il Ciuchi, Lozano, lunghissima, la palla di Anghissà, per Lozano, ma finisce qui ragazzi, ci prendiamo la prima vittoria, in questa divisione 4, con un 2-1 all'Inter, molto molto sofferto, ribaltato dopo il gol preso nei primi due minuti, bene, bene, bene,